ciao gniari ciao gniari botticino sera allora appartamento trilocale dove c'è una cucina posizione bella e sotto la maddalena ai roba cucina termo autonomo dico subito che da rimodernare quindi da rimodernare però c'è la posizione questo qua il soggiorno qui c'è un balcone spettacolo questo balcone spettacolo guarda che roba balcone spettacolo quella tranquillità qui c'è la vuoi credere di essere in vacanza se in vacanza ai roba quindi soggiorno grande cucina abbiamo visto ripostiglio due matrimoniali gniari due matrimoniali due matrimoniali 1 e 2 questa qui guarda anche sul balcone e bagno poi al garage la cantina grassi sta dentro la polo che se lo metti fuori vista però caso cioè 66 in vacanza se in vacanza gniaro prezzo prezzo se a botticino sera 175 mila euro telefono subito 0 30 279 1765 devi rimodernarlo però poi un bijou ciao